Sarà tappezzata con questa epigrafe piazza 4 novembre a Lusiana, dove i commercianti del comune, nato dall'Unione di Lusiana e Conco, celebreranno sabato i funerali dei loro negozi. Qui muore l'imprenditoria montana, recita l'epitaffio scelto per spiegare cosa sta accadendo. Raddoppio dei costi per l'illuminazione e per il riscaldamento si sono aggiunti all'onda lunga di difficoltà lasciate dalla pandemia. Troppo per chi cerca di sopravvivere in questa bellissima terra d'altopiano. Noi possiamo più perché continuiamo ad avere aumenti dopo il Covid, il Green Pass, tutti contingentati. Bene, adesso riapriamo, arriva la bolletta e cosa facciamo? Cioè noi siamo in continua emergenza da 24 mesi. Per noi il Covid è passato l'aspetto sanitario, tanto di capello a chi ha lavorato al fronte. Ma noi adesso siamo ancora sotto Covid e cosa facciamo? Le luci della piazza saranno spente alle 19 con i commercianti riuniti in un'ideale camera ardente delle loro attività. Negozi di famiglia a servizio della gente dei piccoli borghi di montagna, imprenditori che lottano per non abbassare le serrande sul lavoro di una vita intera che terranno in mano un centinaio di candele a illuminare la notte che rischia di avanzare. Grazie a tutti.